Franco Zamuto, ieri sera alla riunione del direttivo del Comitato Civico Patrimonio Termale per esaminare le ultime novità provenienti dalla regione, ossia il fatto che il bando è scaduto, che nel frattempo non è intervenuta alcuna proroga e che soprattutto non c'è stata nessuna offerta anche se già era nell'aria da tempo. Voi vi siete dichiarati sorpresi intanto della mancata proroga, veniva data per certa un po' in diversi ambienti, non solo da parte del Comitato. La sorpresa è stata massima, credo che abbia scosso tutta la città la notizia anche perché eravamo in attesa per altro comunicato che avrebbero prorogato fino a settembre. La sorpresa è anche mortificante per la città, perché una città che si è impegnata tantissimo, che ha dato un grande contributo a fare questo bando, non ci sorprende il fatto che l'abbiano sospesa quanto che noi non siamo stati completamente tenuti in considerazione dopo quello che è stato il nostro contributo fattivo a quello che è stato il bando che è stato emesso. E allora dico che questa città deve riappioprarsi del suo prestigio, ma soprattutto di quello che lei conosce delle terme e che sa sicuramente come poter andare avanti sulla questione delle terme. L'unica cosa che mi sento di dire in positivo o quantomeno diciamo che è accettabile è che effettivamente il periodo non è quello adatto. Noi abbiamo attraversato, dopo aver fatto il bando, dopo aver studiato come proporlo, abbiamo affrontato la questione del Covid. Quella sicuramente ha bloccato tutto, ma non solo sciacca quanto tutta l'Italia. Oggi abbiamo un patrimonio alberghiero e turistico in grossa difficoltà. Tantissimi fallimenti ci saranno a seguire, per cui è il momento poco adatto a pensare di poter trovare un partner e un privato che possa essere interessato immediatamente a questa vicenda. Per cui non lo vediamo molto in negativo. Il negativo è la politica come funziona. Il negativo è non avere rispetto per chi veramente merita la partecipazione a qualche cosa e arriva a sorpresa una scelta, una determinazione di cui nessuno sa nulla e che ancora non conosciamo il perché. Abbiamo soltanto un elemento minimo positivo che è quello che dicono ci sarà una condizione migliore di offerta. Noi attenderemo e chiaramente chiederemo un incontro quanto prima. Sicuramente è questa la discussione che c'è stata dentro del Comitato per comprendere quali sono le ragioni che hanno portato a questa scelta a sorpresa e poi vedere come organizzarci. Noi cercheremo in tutti i modi di capovolgere il tavolo ed essere protagonisti questa volta ancora di più quanto non lo siamo stati la volta precedente per fare un bando che finalmente possa sortire gli effetti positivi. Considerando anche che questo bando deve anche prevedere alternative a quella che è la possibilità di arrivare esclusivamente a un partner privato ma che potrebbero essere offerte tante altre circostanze che probabilmente oggi possono trovare ancora più fondamento e che magari quando abbiamo fatto il primo bando non eravamo nelle condizioni di poter sfruttare situazioni che speriamo possano venire a galla successivamente e che possiamo portare avanti. Lei rimarcava il mancato coinvolgimento ancora una volta della città di Sciacca, del Comitato ma anche delle altre associazioni. A questo punto c'è anche da parte vostra, da parte degli altri comitati, si è parlato di allargare questo tavolo tecnico, di creare questo tavolo tecnico tra le diverse associazioni, far sentire in maniera più forte, più unita quella che è la forza della città che finora non si è registrata proprio a pieno su questa vicenda. La forza della città dobbiamo dimostrare di essere più autorevoli. Sul fatto che ci siano più comitati, questa è una ricchezza, non può essere considerata una diminuzione o una separazione, una divisione. È chiaro che da tre o più associazioni, comitati costituiti possono venire più idee e queste poi nel tempo, quando ognuna di queste associazioni, quando ognuno avrà raccolto quelle che sono le proprie idee, quando uno avrà messo in campo le proprie idee, probabilmente poi ci potrebbe essere un confronto per verificare se queste idee coincidono e se possiamo portare avanti idee comune. Ma sarebbe comunque una ricchezza anche se ci fossero idee diverse, quando saranno proposte alla Regione e possibilmente se dovessimo trovarla come unitaria è chiaro che potremmo anche portarle e condurle insieme. Ma è chiaro che ogni comitato, intanto ogni associazione, ha il dovere di studiare il problema, conoscere quali sono le intenzioni della Regione e perché ha dovuto sospendere questo bando, dopodiché noi siamo aperti, chiaramente, nella misura in cui possa esserci coincidenza di idee e di come affrontare la questione. Chiaramente chiederete un confronto immediato con il Presidente Musumeci, con l'Assessore Armao per fare carezza su quello che è successo, ma soprattutto per parlare delle prospettive. Anche perché l'Assessore Armao non ha proprio in maniera chiara detto che si procederà a breve con un nuovo bando. In realtà ha detto valuteremo il da farsi, vedremo la soluzione migliore per Sciacca. Qual è questa soluzione migliore per Sciacca? La dichiarazione dell'Assessore Armao sembrava un po' imbarazzato. L'argomento forse di maggiore rilevanza, magari che poteva anche sfuggire, è stato quello che a un certo punto ha detto non è detto che si vada una nuova competizione, ma potrebbero emergere anche altre soluzioni. E questo è sicuramente un aspetto da noi già preso in considerazione come eventuale fase 2, ma da approfondire con chi di dovere. Chi di dovere è la Regione, che a questo punto diventa, visto la marginalità che la politica cittadina sta assumendo e ha assunto nella vicenda, diventa veramente il principale interlocutore del comitato e credo di tutti quelli che hanno a cuore questo problema. Noi nel direttivo di riserva abbiamo deciso di chiedere, dopo un approfondimento che faremo in questi giorni, di chiedere un incontro direttamente con il Presidente della Regione Musumece e con l'Assessore Armao. Per capire intanto in maniera più chiara i motivi per i quali non è stato prorogato, ovvero le ragioni per cui si ritiene che un eventuale nuovo bando possa essere più competitivo o migliore. Sicuramente quel bando, l'avevo detto su questa sedia, era il massimo ottenibile in quella situazione. Ma sicuramente era un bando lacunoso e comunque deficitario. Si può fare di meglio, si può fare molto di meglio. Basti dire la mancanza di un advisor, la mancanza di una quantificazione dei costi necessari a rimettere in sesto tutto il patrimonio immobiliare, una mancanza assoluta di ricognizione degli impianti industriali. Insomma quel bando era lacunoso, in quel momento era il massimo ottenibile. Si deve fare un nuovo bando, velocemente, sarà una cosa su cui... forse è arrivato il momento di far bene, non solo di far presto. A vostro avviso quella del bando è l'unica strada percorribile o ce ne possono essere altre? A nostro avviso qui il discorso diventa anche molto legislativo ed è uno degli approfondimenti che potremo fare. Perché c'è una normativa della Regione, la più recente, che indica come sembrerebbe indicare come unica strada l'affidamento in concessione a soggetti privati. Noi ci riserviamo di approfondire in termini sostanziali intanto se cosa significa soggetti privati, se questo escluda anche una partecipazione pubblica di carattere non maggioritario, quindi nella forma adesso molto in voga anche a livello di Unione Europea, di Consiglio dei Ministri, del partenariato pubblico privato. Quindi è una cosa che desideriamo approfondire, quantomeno in termini di conoscenza, per capire se ci sono dei presupposti. Si può sempre anche ipotizzare una modifica legislativa, però la celerità dei tempi è quella che, insieme al far bene questa volta, intendiamo presidiare. Quindi sono tutte cose che vogliamo andare anche a verificare con la Regione, dopo averle dovutamente approfondite da parte nostra, almeno questo è sempre stato il nostro modo di operare, tante volte costringendo quasi gli uffici regionali a tornare sulle loro passi, perché noi dicevamo una cosa che era giusta e loro ne dicevano un'altra che era sbagliata. Quindi se bando deve essere, sia nei confronti di soggetti esclusivamente privati, sia ipoteticamente nei confronti di soggetti che non debbano avere l'impronta di una connotazione totalmente privata, un bando che possa contenere degli elementi sostanziali di miglioramento e che andremo sicuramente ad indicare. Ed eventualmente esaminare adesso anche, o quantomeno discutere, focalizzare altre ipotesi che possano consentire una migliore definizione, un'analisi a più ampio raggio di quelle che possono essere le soluzioni di una questione che deve essere risolta, perché in città continuiamo ad avvertire questo stato d'anio, ma cosa fate, ma tanto le terme non si risolveranno mai, questa cosa non è possibile, il patrimonio termale di Sciacca è un bene primario della città, è un modo per risolvere il problema, dobbiamo trovarlo, e quando dico dobbiamo trovarlo, intendo dire la città, il comitato può assumere anche, speriamo riesca ad assumere questa funzione, di essere veramente da traino di una città che sembra assistere inerte al depauperamento, secondo me anche con responsabilità di carattere erariale della regione, perché essendo un bene demaniale la regione ha il dovere giuridico di salvaguardarlo, di non manutenzionare, di tutelarlo, quindi saranno anche questi aspetti che considereremo e porteremo sui tavoli, anche con eventuali responsabilità da parte di chi sta portando a distruzione un bene che noi invece vogliamo recuperare e valorizzare.